Gentili telespettatori, buona giornata. Vi ricordate la neogovernatrice sarda Alessandra Todde che diceva che la Sardegna in Manganelli ha risposto con le matite, che diceva della resistenza che partiva dalla Sardegna e poi dopo neanche una settimana in televisione ha detto che il fascismo non esiste in Italia e questo non è un governo fascista? Ah, prima per farti eleggere dal popolino di sinistra gli raccontavi della resistenza che parte dalla Sardegna e che poi le matite hanno vinto sui Manganelli, Manganelli praticamente il braccio armato del regime fascista che c'è in questo momento, poi dopo una settimana ha cambiato completamente registro, cioè ha raccontato la balla della resistenza che parte dalla Sardegna e poi dopo è arrivata a dire che non esiste nessun fascismo in Italia, che il governo non è assolutamente fascismo. Complimenti ad Alessandra Todde, prima si è fatta votare con la resistenza e poi ha detto chiaramente che il fascismo non c'è in Italia. Vabbè, quindi le matite avevano risposto ai Manganelli, la realtà è che in Sardegna le matite non avevano risposto ai Manganelli, semplicemente i capi del centrodestra hanno regalato la regione alla sinistra perché hanno voluto fare i galletti e così hanno regalato la regione. E allora adesso in Abruzzo dove Marsilio, almeno al momento della registrazione di questo video, è in discreto vantaggio, si parla addirittura tra i 5 e i 10 punti percentuali non dovrebbe esserci storia, diciamo. E allora in questo caso cos'è? I Manganelli hanno vinto sulle matite? Se in Sardegna le matite hanno vinto sui Manganelli, in Abruzzo i Manganelli hanno vinto sulle matite? Eh? Mamma mia, mamma mia come state, mamma mia come state? Siamo nella trasmissione di Mentana, la famosa Maratona Mentana, lo speciale di La 7 perché questa elezione se fosse stata persa dal centrodestra sarebbe stato veramente un problema. Nell'arco di 10 giorni perdere due regioni sarebbe stato davvero l'inizio della fine e invece le cose sono andate diversamente a dimostrazione che la Sardegna è stata proprio ingenuamente regalata agli oppositori. Tra gli ospiti di Mentana c'è il giornalista Antonio Piroso che dice premetto che secondo me la Todde era un candidato migliore di Truzzo. Il sindaco di Cagliari in corsa per il centrodestra sconfitto per pochissimi voti ma volevo chiedere a tutti voi se dovesse vincere il candidato di centrodestra i Manganelli in Abruzzo hanno battuto le matite? Mamma mia, bellissima questa, me la sono scritta. Dice questa è una provocazione, dice ovviamente, ribatte il conduttore che ammette l'uscita di Todde era uno slogan e non dei più fair nei confronti della coalizione avversaria. Parliamo chiaro, parlavano del vento, del cambiamento, in realtà non c'è stato nessun cambiamento, non c'è stato nessun vento, la Sardegna è stata regalata dal centrodestra, abbiamo dovuto regalare una regione, ce ne abbiamo troppe, una gliela regaliamo. Quindi c'è stato questo regalo, da lì si sono esaltati a sinistra, gasatissimi, il campo largo, il vento è cambiato, cambiato il vento, c'è sto vento che era cambiato, invece è cambiato proprio niente, non è cambiato proprio nulla. La realtà è che il centrodestra in Sardegna ha avuto un bel 4% in più degli avversari, quindi ha stravinto in Sardegna al centrodestra, solo che col voto disgiunto alcuni hanno voluto far pagare la scelta di Truzzo, imposto da Meloni. Qui in Abruzzo non c'è il voto disgiunto, quindi se tu vuoi far pagare alla centrodestra qualcosa e sei un elettore di centrodestra devi votare per forza un partito di sinistra, perché non essendoci il voto disgiunto non puoi pagare per, non puoi da una parte votare per un partito di centrodestra e dall'altra parte votare un altro candidato. Pertanto se voti destra è candidato di destra, se voti sinistra è candidato di sinistra e pertanto se non succedono cose incredibili e fantascientifiche ormai la regione Abruzzo è stata confermata al centrodestra e con un vantaggio credo anche decisamente significativo. All'inizio si era pensato, visto che i dati dell'affluenza erano in aumento, che ci fosse un sacco di gente di sinistra che stesse andando a votare un po' per fare la fine di Bonaccini in Emilia Romagna quando vinsero le elezioni lì, proprio perché a sinistra decisero di andare in massa a votare, perché era diventato un sondaggio, un referendum su Salvini e Bonaccini e così a sinistra sono corsi in massa a votare, cosa che non hanno fatto a destra, stessa cosa è successa all'elezione del sindaco di Roma, ha vinto Gualtieri perché quelli di centrodestra sono rimasti a casa a dormire e quelli di sinistra si sono vestiti, sono usciti di casa e sono andati a votare e hanno fatto vincere la sinistra e Calenda che aveva preso il 21%, pensate un po'. Quindi molte volte quando la destra perde è perché non va a votare, perché non c'ha voglia di uscire di casa, voi direte ma davvero siamo a questo livello? Siamo a questo livello, siamo a questo livello, bene. Quindi l'Abruzzo oggi spegne completamente quello che è, diciamo così, i sogni di gloria di questo famoso, non campo largo, ma campo larghissimo dove al suo interno c'era anche nascosto Renzo, Renzi, al posto che Italia Viva l'ha cambiato in Abruzzo Vivo, quindi pensava che nessuno se ne accorgesse, ma poi se ne sono accorti ovviamente tutti, che lì dentro nella coalizione c'era anche Abruzzo Vivo, diceva ma cos'è una roba della pesca, Abruzzo Vivo, ma cos'è una pizza? E era lui nascosto, al posto che Italia Viva Abruzzo Vivo, terribile, nome orripilante Abruzzo Vivo, sembra quasi una roba tipo resuscitato, tenuto in vita, Abruzzo Vivo, mamma mia. Forse era meglio Viva l'Abruzzo più che Abruzzo Vivo, no? Ecco, tipo Forza Italia, Italia Forza. Va bene. Comunque, grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti, grazie a tutti e arrivederci a presto. Ricordatevi che poi c'è anche Tele Italia Seconda Rete con video di come questo. Grazie a tutti, buona giornata.